Buonanotte, buonanotte, un giorno di più come se fosse il primo giorno di oggi. Buonanotte, televidente. Grazie per sintonizzare la perspetiva di Canal 22, un nuovo canale di notizia e un nuovo canale di perspectiva. Per comunicare tutte le informazioni che avete nella pantalla. quando mi ho saputo,一人 che si chiede a parlare come ho presente tantissime About R lange che invece invece non spento non ho bisogno di più 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 se volete con me non lo faccio con me mi guardo mi sollo non posso fare se non c'è problema con le e abogado con il problema di giuricasse ma non è pagato non preoccuparti quere o non quere by the way c'è un bebel in su man c'è un bebel in su saco e plus c'è un bebel in su ote e tu mi sabes hai 5 bebel in su casa un gente masare religioso un gente bon para e turcos e gente qui è pavo drenta con me come su amante o drenta con me come matrimonio non 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 necessariamente sta sicuro ora promessa nel bim pensa che è buono è una fuente di cose qui è di Dio o è di mondo la Palabra di Dio è di forma qui in 2 Timoteo capítulo 3 e nel caso che non sta nel versicolo 5 che ha una aparienza di un religioso verde ma che non ha il suo poder è di evitare di persone che non è qui la Palabra di evitare è di referenza in modo di un spil ora la luce dal di un spil è di reflezione ma è di fare lo che dice che non sta ora che è offerta non ha qui ora che il mondo vengono su offerta di grandezza di placer di logro e tutto il tipo di cose che non è di fare tratta e influencia in maniera un spil la che refleja vai è sta buono da no e buono da queda no che non è che non si sono il è un matrimonio homosexual e è un libero basta il è modernizzato non 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 . ti ha raggiunto da dire, e la conseguenza non ti ha dato, non ti ha dato il beneficio, non ti ha garantito. Però la tua vita è la tua vita. La Palabra di Dio, che ti ha presentato al nostro Signore Cristo come il tuo Salvador, è la liberazione. Mi sono Fredri Kelly, telefono 594-0541 per più informazioni. Grazie. Grazie a tutti.